Seconda edizione della rassegna bio di vino sabato 11 e domenica 12 giugno tra Alessandria e il castello di Trisobbio, due giorni dedicati all'agricoltura biologica e alla produzione vitivinicola secondo i dettami del mondo del bio. Una rassegna che mette assieme i vini piemontesi, i vini italiani con uno sguardo e un'apertura al mondo della produzione biologica internazionale. Un modo per rilanciare questo tipo di agricoltura rispettosa dell'ambiente per promuovere la qualità sempre maggiore di questi prodotti. Bio di vino seconda rassegna, quindi siamo il secondo appuntamento di una manifestazione che sta crescendo e quest'anno abbiamo avuto la partecipazione dei primi vini stranieri. Quindi un appuntamento che proseguirà nei prossimi anni come emergeva anche dalle intenzioni che oggi abbiamo dichiarato un po' tutti, visto il successo che sta incontrando, destinata ad allargarsi ai vini di tutta Europa. E chissà, magari non solo, perché dobbiamo dire che i vini biologici sono un vanto del nostro paese ma anche altri paesi, gli Stati Uniti, il Cile, il Sudafrica, stanno irrompendo in questo comparto che sta in qualche modo conquistando l'attenzione di tanti paesi, anche della Cina, temuto competitore per i nostri prodotti agricoli e molto interessato ai vini biologici. Noi vogliamo radicare questa manifestazione in provincia di Alessandria, nel Piemonte, che ha fatto anche una scelta di arrivare ad un salone dei vini dedicato ai piccoli produttori, vitigni autoctoni e alle produzioni biologiche. Quindi ci sembra anche di rispondere a questa necessità organizzando e facendo crescere questa manifestazione in provincia di Alessandria. Collegato a questa seconda edizione di Biodivino c'è anche un'iniziativa che si chiama Cantina Biodivino. Esattamente. Lo scorso anno con la prima rassegna abbiamo inaugurato la bottega dedicata ai vini biologici, che ha appunto preso il nome anche dalla rassegna Biodivino ed è quindi la prima realtà che offre uno spaccato della produzione biologica nazionale. Direi un'iniziativa che ha colpito nel segno e che ha conquistato l'interesse anche di altre realtà, tant'è che il comune di Melissa, che appartiene al circuito, alla rete delle città del bio, ha deciso di aprire la seconda cantina dedicata ai vini biologici e nelle prossime settimane all'interno della torre Saracena, una bellissima torre Saracena con vista mare, ci sarà la seconda cantina dei vini biologici. Quindi una rete destinata a crescere. È una scelta precisa di valorizzazione di tutto il patrimonio enologico della nostra provincia. Biodivino, che è la seconda esperienza, aveva anche tracciato la strada della qualità del prodotto. Il prodotto deve essere un prodotto prima di tutto, che nasce da un progetto di qualità nel vigneto. Ambiente, biodiversità sono le premesse. Questo ci fa dire che il prodotto enologico per una provincia come la nostra, se razionalizzato e qualificato, può essere una grande risorsa anche economica per le aziende, per i produttori, per il nostro territorio. Dal biologico, dunque, estendiamo un concetto di qualità a tutta l'azienda agricola della provincia di Alessandria, che attraverso un processo di riqualificazione può immettere il proprio prodotto fuori dal proprio contesto locale. Che cosa è cambiato in 20 e più anni di tempo per un agricoltore biologico, di pratico? Io posso dire, occupandomi principalmente del vino, che prima un po' da pionieri, sicuramente guardavamo più la scelta un po' ideologica, se vuoi, a scapito qualche volta della qualità. Oggi invece ci fa piacere essere appunto competitivi, confrontarsi sovente con gli altri, il vigneto ha preso anche il due bicchieri, insomma, confrontarsi anche con i vini convenzionali e dimostrare che un vino, oltre, io dico che deve essere buono come gli altri, se è biologico è meglio. Grazie. 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 Grazie.